Sono quasi sicuro che si tratti di un dado. Incredibile fra, sa di parmareggio, assaggiane un pezzo anche tu. Molto bello questo posto, mi voglio insediare qui. Oh no mannaggia, ho di nuovo quel problema di rinoceronti. Nel mezzo del cammin di nostra vita, mi ritrovai per una selva oscura eccetera eccetera. Tutto sto casino solo perché hai visto un rinoceronte che parla. Sono arrivato alla conclusione che è un dado. Lo è davvero? Facciamo a gara a chi rompe di più la quarta parete. Va bene, io riesco a creare un episodio spin-off dal nulla. Incredibile, ho fatto anche io una torre come quella lì però dritta e con i rinoceronti. Voglio essere proprio il bello di questa torre. Ma dove c'è Roberto Benigni? Ma è ma bucaiola? Scusi sono il sindaco, questa torre è abusiva, sono 15 mila lire di multa. Mamma mia devo scappare. Molto bello, però tu ci riesci a passare direttamente alla fine del video? No non farlo potrei... Fine? Pazzesco ce l'ho fatta davvero. Oh no, la vera fine del video è già passata, ora siamo intrappolati in un limbo in cui l'episodio non finirà più. Oh no mannaggia, cos'ho fatto? Vabbè proviamo ad aspettare. Possiamo sfruttare questo momento per approfondire ulteriormente la conoscenza l'uno dell'altro. Sì, sono d'accordo, io c'ho le sigarette, te ne offro una molto volentieri. Sono indonesiane, le ho comprate in seguito al mio soggiorno sull'isola del Borneo di un mese fa. Pazzesco chissà quante altre storie incredibili avrai da raccontare.